Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di tv siti in apertura la cronaca trovato in possesso di una catana di 50 centimetri a bordo di un treno della circunvesuviana un 35enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri ancora cronaca proseguono le operazioni interforti alto impatto a torre annunziata durante un servizio straordinario di controllo del territorio ritrovata anche una pistola rubata a roma nel 2009 torniamo ad ercolano sospesa la dipendente comunale che in orario di lavoro si mostrava in spogliarelli con la webcam del pc d'ufficio il sindaco buon aiuto all'indignazione facciamo seguire i fatti poi il consueto aggiornamento sui contagi dati nuovamente altalenanti tra torre del greco e torre annunziata si è chiuso questa mattina liceo nobel di torre del greco il laboratorio orto sinergico un progetto realizzato dall'associazione torre vesuvio pro natura all'incontro con gli alunni sono intervenuti anche il sindaco e l'assessore in chiusura lo sport con la turris battuta d'arresto per i corallini che nel turno infrasettimanale perdono contro il campo basso 3 a 2 questo ed altro guardiamo i servizi senza indossare la mascherina pretendeva di restare sul treno sebbene il controllore più volte gli avesse intimato di scendere ma quando sono arrivati i carabinieri quello della mascherina si è rilevato il problema minore l'uomo aveva con sé arnesi per lo scasso sigarette di contrabbando alcuni coltelli ma soprattutto una catana di 50 centimetri è accaduto a bordo di un treno della circunvesuviana in partenza dalla stazione di poggio marino il convoglio proveniente da sarno e diretto a napoli aveva a bordo molti pendolari pronti a tornare a casa il capotreno ha intimato ad un passeggero di origini marocchine di 35 anni di indossare la mascherina anti covid e di esibire il titolo di viaggio l'uomo ha rifiutato l'invito causando tra l'altro un ritardo di 20 minuti a quel punto il capotreno ha chiamato i carabinieri che procedendo al controllo degli accertamenti hanno scoperto che era in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso e di mezzo chilo di sigarette di contrabbando a perquisizione continuate sono stati rinvenuti e sequestrati una spada di 60 centimetri e 5 coltelli a serramanico oltre ad una bici elettrica di dubbia provenienza che l'uomo aveva con sé il 35enne è stato denunciato a piede libero doveva rispondere tra l'altro l'interruzione di pubblico servizio, ricettazione e porto abusivo di armi Proseguono le operazioni alto impatto a Torre Annunziata Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona denominata Annunziata nel rione Penniniello, via De Simone, via Marconi, piazza Giovanni XXIII e sul lungomare che ha visto in azione nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e della squadra mobile e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza con il supporto del reparto Prevenzione e Crimine Campania delle unità Cinofile Antidroga della Guardia di Finanza e di personale dei Vigili del Fuoco identificate 164 persone di cui 54 con precedenti di polizia, controllati 83 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca e contestate 5 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita mancata esibizione dei documenti di circolazione e di vieto di sosta In particolare una persona è stata denunciata per guida senza patente poiché recidiva nel biegno Infine in uno stabile diroccato in via Grazie hanno rinvenuto tra alcuni cumuli di materiale di risulta una pistola Glock risultata rubata a Roma nel 2009 28 munizioni calibro 40 e all'interno di un calzino 77 sim card telefoniche All'indignazione facciamo seguire i fatti Abbiamo già sospeso la dipendente ed avviato il procedimento disciplinare finalizzato fino anche al licenziamento A renderlo noto il sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto all'indomani del servizio di striscia la notizia che ha smascherato una dipendente comunale che in orario di lavoro si mostrava in spogliarelli con la webcam del pc d'ufficio Ci costituiremo inoltre, prosegue Buonaiuto, parte civile nel processo penale perché il comportamento di un singolo non può gettare fango su un'intera comunità Ercolano è altro è la bellezza delle ville vanvitelliane è il fascino senza tempo del parco archeologico è la straordinaria immensità del Vesuvio Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno perché la nostra città ha sconfitto la camorra grazie al coraggio dei cittadini e adesso vuole continuare ad investire in turismo e cultura Dati altalenanti nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni Secondo l'ultimo bollettino a Torre del Greco sono state registrate nella giornata di ieri sei nuove guarigioni certificati anche tre nuovi casi di positività al Covid-19 Muta così il bilancio della 564esima giornata consecutiva di attività del COC Totale ospedalizzati 12 Totale in isolamento domiciliare 79 Totale guariti dal Covid 6.781 Totale decessi 176 A Torre annunziata invece l'ultimo bollettino parla di sei nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 77 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 7,79% Al contempo si registrano due guarigioni Sono 68 i cittadini attualmente positivi Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 51.686 4.680 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria di cui 4.518 guarite e 94 decedute Secondo invece il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania sono 406 i positivi registrati nella giornata di ieri a fronte di 23.637 test Si registra anche un decesso Secondo invece il report dei posti letto su base regionale sono 656 i posti di terapia intensiva disponibili 21 quelli occupati 3.160 i posti di degenza disponibili quelli occupati 183 Si è chiuso questa mattina al liceo Nobel di Torre del Greco il laboratorio Orto Sinergico nell'ambito del progetto Nuovamente qui realizzato dall'associazione Torre Vesuvio Pro Natura grazie al bando le comunità solidali del Centro Servizi per il Volontariato di Napoli Insieme ai volontari e alla dirigente scolastica all'incontro con gli studenti sono intervenuti anche il sindaco Giovanni Palumba e l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati Sono stati realizzati due laboratori in modalità didattica a distanza calibrati su due classi la prima A e la terza B L'obiettivo originario, spiega Paolo Belfiore, responsabile dell'associazione era quello di portare un gruppo di studenti nel giardino in via del lavoro a Torre del Greco in gestione alla nostra associazione per realizzare insieme un orto sinergico Nella rimodulazione delle attività legate all'emergenza sanitaria abbiamo voluto realizzare due percorsi molto diversi ma con un obiettivo comune di stabilire un rapporto con la natura che ci circonda La prima A è stata virtualmente all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio attraverso una serie di video anche realizzati dal team di esperti del progetto a seguire le passeggiate virtuali attraverso i sentieri del parco alla scoperta delle caratteristiche tipiche della nostra zona dalle rocce vesuviane passando per le briglie borboniche fino alle diverse specie di ginestra presenti nell'aria Gli alunni della terza B invece hanno avuto la possibilità di riflettere sull'importanza della natura intesa come ecosistema Da cornice ai due laboratori l'agrumito arricchito di specie nostrane da tipici odori e sapori realizzato all'interno del giardino della scuola Battuta d'arresto per la Turris che dopo l'importante successo contro il Palermo cade davanti al proprio pubblico di fronte a un campo basso che dà il meglio di sé in trasferta in questo inizio di stagione Partono subito forti Corallini, privide per infortunio di Santaniello e dopo cinque minuti sono già in vantaggio con Giannone che da fuori area trova una parabola imprendibile per il portiere ospite Raccichini ma la reazione dei molisani è immediata Di Francesco entra in area e con una carambola beffaperina per l'1-1 Poco dopo, grande occasione per il campo basso Rossetti si invola verso la porta Corallina ma di fronte al portiere manda clamorosamente fuori Sul finire del primo tempo è ancora Rossetti a sfiorare il vantaggio per gli ospiti La ripresa si apre con le solite amnesie degli uomini di Caneo che subiscono prima il gol di Liguori che non sbaglia tutto solo davanti al portiere gol verrà viziato da un presunto fallo al centrocampo e pochi minuti dopo arriva addirittura il tris con Vitali La Turis accusa il colpo ma prima Tascone da fuori poi Leonetti provano la conclusione ma Raccichini è insuperabile Alla mezz'ora Franco si incunia nella difesa rosso-blu e la sua conclusione trova la deviazione di un difensore che spiazza il portiere per il 2-3 Il forcing finale non produce gli effetti sperati e nemmeno i cambi dell'allenatore riequilibra nel match Si chiude con la terza sconfitta interna stagionale che però non ridimensiona l'ottimo campionato fin qui della Turis che resta al terzo posto nel gruppone dietro Bari e Catanzaro Nel prossimo turno trasferta in terra di Puglia contro il fanalino di coda Fidelisandria Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'e-mail alla nostra redazione all'indirizzo redazionechiocciolatvc.it o chiamare al numero 340-6561-484 Con questo è veramente tutto Arrivederci a domani